2000 anni di storia costellata da avvenimenti che hanno inciso il nome di Lucca nella linea del tempo. È entrata nel vivo la rassegna Lucca e Storie Fest che per tre giorni racconta questo percorso su nove baluardi delle Mura, dove sono state allestite altre tante ricostruzioni storiche per ripercorrere le varie epoche della città. Un tuffo nel passato per capire chi eravamo. L'obiettivo della rassegna voluta dall'amministrazione comunale e alla sua seconda edizione è quello di favorire la divulgazione della storia cittadina attraverso nuove modalità, in grado di raggiungere un pubblico sempre più ampio. E l'intento anche quest'anno è riuscito, attraverso gli spettacoli e le ricostruzioni storiche delle diverse epoche, che dai primi insediamenti delle popolazioni celto-liguri a Colonia Romana, dal Ducato Longobardo a Carlo Magno, Matilde di Canossa e il Medioevo con Castruccio Castracani, passando dal Rinascimento fino all'età napoleonica, Lucca ha svelato i propri segreti nascosti nel suo passato, portando sulle mura migliaia di visitatori. Grazie